Al centro un ulivo, sopra frammenti di roccia che richiamano le ossa delle vittime, due picchi di roccia a creare una fessura che ricorda le foibe, le pareti luminose a riflettere l'immagine della pianta e di chi si affaccia a guardare. Nel giorno del ricordo, Arcore ha inaugurato il suo primo monumento dedicato alle vittime delle foibe, un'opera dell'artista Gian Blu installata nell'area giochi di via San Martino, a pochi metri dalla celebre villa di Silvio Berlusconi. Era un monumento tanto atteso, tanto voluto, ma mai realizzato. Siamo riusciti a realizzarlo a tempo record, è un monumento particolare perché dà una sensazione anche di pace. Nel momento in cui ricordo un momento tragico della storia del nostro paese, ha anche una funzione di catarsi perché ci fa pensare che tutto può essere sempre migliore. Quell'ulivo che nasce dall'ossario delle pietre del carso, delle foibe, è il simbolo della speranza che una comunità unita, una comunità rapacificata, può veramente pensare al futuro in maniera costruttiva. Nella sala del Camino, l'amministrazione comunale e i rappresentanti dell'associazione Amici degli Esuli, Giuliano Dalmati, assieme al gruppo Alpini di Arcore, hanno sottolineato con commozione l'importanza di ricordare una tragedia per troppo tempo rimasta poco nota o ignorata. Un dramma, quello delle foibe, vissuto e testimoniato anche dalla consigliera comunale Daniela Sperti, con alcuni parenti del marito che proprio nel dopoguerra furono uccisi o costretti a scappare dall'Istria. C'è un cambiamento dovuto alla voglia di parlare di queste cose, di superare gli ostacoli ideologici che non hanno motivo più di esserci in questi anni, nel nostro futuro, e che devono essere la nostra forza, il nostro coraggio per costruire un mondo migliore. E questo non vale solo in Italia, vale in tutto il mondo. Se avessimo un po' più di coraggio, se parlassimo di più di quello che succede, se coinvolgessimo di più i nostri governanti con proposte, iniziative, potremmo fare qualcosa di veramente importante per la pace invece di invocarla.